È stato un tavolo positivo e fortemente orientato a risolvere l'avvertenza, quello organizzato questa mattina dal prefetto di Nuro Giancarlo Dionisi e che ha raccolto intorno al tavolo i principali attori coinvolti nella prevenzione e lotta alle cavallette nel nord Sardegna, a partire dall'assessora regionale all'agricoltura Valeria Satta, insieme ai tecnici di laurea e di foresta, sei rappresentanti della provincia. Ed è stata positiva la chiamata del prefetto Dionisi anche la risposta dell'esercito e del comando provinciale dei vigili del fuoco, consapevoli della necessità di iniziare il prima possibile la battaglia contro l'invasione delle locuste. E così sarà. L'inizio della campagna è previsto per metà marzo. L'incontro è stato molto positivo perché intanto l'assessore Satta, che ringrazio di nuovo, ci ha dettagliatamente spiegato in che cosa consiste questa pianificazione, sostanzialmente in una prima fase di monitoraggio delle larve in alcuni terreni che si ritengono quelli dove ci sono queste uova e poi nella fase successiva di distruzione di queste larve. Abbiamo registrato sostanzialmente una condivisione da parte dell'esercito a cui è stato chiesto l'impegno di almeno un centinaio di uomini che appunto contribuiranno in questa fase di monitoraggio, in una fase in cui praticamente la chiamiamola anche una fase di scouting, in cui dovremmo andare, dovranno andare queste squadre a monitorare dei terreni ben individuati per appunto andare a, diciamo così, trovare queste larve e poi successivamente i tecnici di lavoro e proprietaranno a distruggerla. Stamattina ho partecipato all'incontro ad Ottana, invitata dal sindaco ma soprattutto invitata dagli allevatori, allevatori che sono da troppo tempo ormai in attesa di un'azione concreta sul territorio e siamo andati a raccontare loro quello che l'agenzia laurea andrà ad attuare, ad attuare in due fasi, la fase del monitoraggio e la fase dell'azione. Sono stata poi ricevuta dal prefetto di Nuoro che con un'azione di forte responsabilità e sensibilità del problema ha chiesto l'intervento dell'esercito. Quindi in questo tavolo dove c'è stata la provincia, i vigili del fuoco, lo stesso esercito, si è discusso su quello che l'esercito andrà a fare e si è chiesto loro un'azione di monitoraggio e di controllo del territorio.